Panino gourmet elevato a arte culinaria Raccogliere pomodori, mozzarella fresca, olio d'oliva, basilico e pepe nero Tagliare i pomodori e tostarli nel forno Farcire il pane artigianale con i pomodori tostati, mozzarella, olio e basilico Cospargere il panino con pepe nero per la condimentazione finale Servire il panino di artigiano dei sogni su un piatto di ceramica